Diamo il meglio di noi e questo è lo slogan scelto dal Ministero della Salute per la giornata nazionale della donazione di organi e tessuti che si è celebrata ieri e a cui hanno aderito il Centro Nazionale Trapianti e numerose associazioni di volontariato attive su tutto il fronte nazionale. La regione Sicilia purtroppo ha grosse carenze per quanto riguarda i trapianti. La rete italiana della trapiantologia è la prima in Europa. Purtroppo a questo primeggiare della rete trapiantologica abbiamo una donazione che non è all'altezza di questo. Siamo oggi proprio qui perché donare deve diventare un gesto naturale. Tutti noi aneliamo a sconfiggere la morte, donando doniamo vita e quindi uno scacco matto alla morte. E' importante partire dalle scuole per sensibilizzare i ragazzi su questa tematica. Noi stiamo lavorando su più fronti. La scuola è il gradino maggiore perché formare le nuove generazioni significa formare anche le famiglie perché i ragazzi vanno dentro le famiglie. Poi stiamo andando negli ordini professionali, stiamo andando negli ordini religiosi. Abbiamo un accordo con la Chiesa, loro faranno un messaggio. Questo è molto importante. Togliere la cultura del morto sarà un passo fondamentale.